una buona serata e telespettatori di sail tv news vediamo insieme il sommario con le notizie più importanti della giornata caro bollette impianti sportivi senza spogliatoi è una soluzione vaccini a clusone nuovo centro ma c'è scetticismo velo stazione per ora è un flop i problemi sono troppi cimiteri per animali ecco la legge regionale a giacomo agostini la rosa camura dalla regione parliamo del caro bollette del caro energia ne subiscono un po tutti anche gli impianti sportivi non solo quelli invernali è una delle ipotesi è quella di chiudere gli spogliatoi le docce per risparmiare potrebbe essere quella vincente allarme impianti sportivi e non solo quelli delle risalite in montagna piscine palestre palazzetti alcuni già chiusi come quello di seriate altri che limitano i servizi con le palestre che chiudono la piscina collegata ingestibile con il caro energia alcuni gestori hanno adottato una differenzazione delle tariffe se vuoi giocare a tennis al freddo il campo costa 15 euro se vuoi la luce e di riscaldamento il doppio almeno poi c'è il capitolo docce e spogliatoi l'assessore competente di bergamo poli ne sta meditando anche la chiusura mantenere limitate le spese lasciando aperti gli impianti comunali senza i costi del riscaldamento e dell'acqua calda potrebbe essere una delle soluzioni una prima verifica viene dal centro tennis loreto da due anni gli utenti non si cambiano e non fanno la doccia nell'impianto che presto sarà chiuso per la ristrutturazione ma la risposta è stata decisamente tiepida prenotazioni a picco l'utilizzo dei campi è crollato al 10 per cento per un impianto come quello di loreto in tempi normali si spendeva fino a 100 mila euro all'anno oggi sarebbero almeno 300 mila impossibile resistere l'inverno alle porte e finora le temperature sono state decisamente clementi più o meno 15 giorni per decidere se abbassare le serrande dello sport parliamo di povertà nella bergamasca riservata quasi esclusivamente agli stranieri ma l'inverno alle porte appunto con il caro energia ci potrebbero essere amare sorprese la povertà bergamo torna ai livelli pre covid con le richieste d'aiuto alla caritas da parte di italiani che scendono dal 45 per cento del 2020 al 32 per cento del 2022 dietro l'angolo però si insidia il problema del caro bollette non ancora avvertito in tutta la sua carica destabilizzante ma pur sempre in agguato che veicolerà un inverno difficile per tutti io sono seriamente preoccupato dalla questione delle bollette per ora non la sentiamo siamo anche in un periodo estivo abbiamo un ottobre che anche oggi ci sono più di 24 gradi e tutto quindi la cosa diventa abbastanza ancora gestibile noi pensiamo fine novembre inizio dicembre che arrivino forse le cosiddette prime stangate anche se aumenti ci sono già stati però una famiglia l'ha sentito meno sono le aziende che stanno sentendo davvero tantissimo gli aumenti presumibilmente nei mesi invernali l'identikit di coloro che si rivolgeranno alla caritas si allargherà a ricomprendere anche gli appartenenti al ceto medio basso chiamati ad affrontare bollette spropositate al momento invece i più rimangono coloro che soffrono di una povertà cronica le richieste sono un po le solite soprattutto la questione abitativa la questione lavorativa non tanto anche perché in questo momento ci chiedono lavoro il problema però è che chi è in una malattia di povertà cronica purtroppo non riesce a prendere in mano un lavoro continuativo riescono a fare dei piccoli lavori qualche ora al giorno non sono abituati a portare avanti tutta la giornata lavorativa quindi noi lavoriamo molto sul preparare queste persone a una costanza nel lavoro che non è un giorno qualche ora ma deve avere davvero quella costanza settimanale mensile annuale che dopo dopo da certezza alla famiglia per queste persone il reddito di cittadinanza detta della caritas di bergamo non può rappresentare la soluzione ma deve essere ampiamente rivisto il reddito di cittadinanza funziona se viene cambiato quindi si mantengano le risorse per i poveri io mi auguro che anche il nuovo governo lo faccia però si riveda il modello ecco cambiamo decisamente argomento la polemica tra il conservatorio di musica di bergamo il comune e certi alcuni residenti diciamo che la disputa era suonare con le finestre aperte suonare da parte degli studenti vediamo il tar della lombardia cosa ha deciso al conservatorio di bergamo musica sì ma con le finestre chiuse questa è la decisione del tar della lombardia che ha respinto la sospensiva del ricorso presentato dall'istituto musicale contro l'ordinanza comunale che gli impone di mantenere serrate le finestre le elezioni quindi si svolgeranno con sorgenti sonore attive come le ha definiti il tribunale ma solamente al chiuso a segnalare il disturbo erano stati i residenti vicini allo stabile che ospita il conservatorio in via palazzolo l'arpa agenzia regionale per la protezione ambientale aveva rilevato livelli sonori entro i limiti ma suggeriva di mantenere le finestre chiuse una buona notizia arriva invece dal ministro messa che ha firmato i decreti di statizzazione dell'istituto una garanzia per il futuro dell'istituzione musicale bergamasca andiamo in val seriana parliamo di vaccini lab vaccinale è aperto ma la quarta dose resta veramente bassa pochi a frequentare lab il centro vaccinale per i vaccini anti covid ed eclusone in alta valle seriana ha riaperto in un nuovo spazio non viene più utilizzato il centro sportivo di via dombeppo vavassori ma da questa settimana è un'ala dell'ex casa dell'orfano ad ospitare le linee attivate dalla sst bergamo est con iml iniziativa medica lombarda 180 le dosi giornaliere che si potranno somministrare ad oggi l'apertura è solo di due giornate il lunedì dalle 14 alle 20 e il martedì dalle 8 alle 14 l'invito di regione lombardia e dell'azienda sociosanitaria è quello a prenotare la quarta dose sul sito regionale lunedì 17 ottobre è stato aperto il centro vaccinale di inclusione vaccini anti covid e vaccini anti influenzale vengono somministrati qui alla casa dell'orfano in ingresso la cittadina lungo la statale una sede comoda aperta solo due giorni alla settimana perché ci sono poche prenotazioni abbiamo sentito i cittadini se sanno appunto della riapertura e se intendono farsi la quarta dose farà la quarta dose sicuramente assieme all'anti influenzale verrà fatta giù alla casa dell'orfano e ha già prenotato se già ancora prenotato perché sono i primi che fanno e quindi aspetto qualche giorno avere più informazioni però sicuramente la faccio centro vaccinale a clusone per il centro vaccinale lo sa che l'hanno riaperto sì ma adesso aspetto mio nipote che mi dica qualcosa certo comunque farà la quarta dose penso di sì diciamo che c'è un po di titubanza anche tra le persone sul fare o non fare questa quarta dose qualcuno continua a dire no ma io aspetto perché così e ne arriva uno che comprende anche l'anti influenzale non hanno capito che comunque saranno due somministrazioni lo stesso non è un vaccino che comprende entrambe le vaccinazioni e la gente ha paura quando si trova di fronte a delle cose tragiche perché prima che uscisse il vaccino diceva tutti appena arriva il vaccino mi vaccino quando è arrivato il vaccino cosa hanno detto hanno detto prima lo provano gli altri poi lo provo io e adesso in questo momento sono un po tranquilli perché le informazioni sono abbastanza tranquille non penso che vengono voglia di vaccinarsi però faranno l'anti influenzale o stanno aspettando che le dicano i dottori perché alla fine il dottore che decide sapete che ha riaperto il centro vaccinale a clusone che io sappia no ecco ha riaperto lunedì farà la quarta cioè non so se io farò la quarta dose sarò obbligata sì se non ho sei di clusone sapevi che hanno riaperto il centro vaccinale pensi che farai o aiuterai qualcuno a fare la quarta dose non penso sono diventata no vax ecco vediamo i dati vediamo i dati delle ultime 24 ore a lombardia per farci meglio l'idea 43 mila i tamponi effettuati vedete che la percentuale di quelli riscontrati positivi è comunque ancora alta 18,7 per cento a bergamo 688 nuovi casi interventa intensiva si aumenta di quattro ricoveri mentre rimane inalterato il numero dei ricoverati in te nelle terapie ordinarie nelle terapie non intensive sono 1192 in tutta la regione ancora alto il numero decessi sono 17 cambiamo argomento parliamo di viabilità andiamo nella zona delle piscine zona santa lucia ci sono troppe code secondo l'assessore ribolla della lega che attacca in consiglio comunale tanti cantieri in città e traffico rallentato in diversi punti nevralgici si lavora per un futuro migliore ma le difficoltà della circolazione in certi momenti della giornata è davvero alta problemi per la scelta di rimpicciolire la carreggiata a favore di una ciclo pedonale nella zona adiacente alle piscine ital cementi nel quartiere santa lucia con tanto di foto il consigliere ribolla della lega ha dimostrato al consiglio comunale le code nelle ore di punta secondo ribolla il progetto ha ignorato le osservazioni di residenti e commercianti eliminando anche molti parcheggi l'interrogazione scritta al sindaco e dalla giunta sul cambio della viabilità nella zona santa lucia condivide la lotta all'inquinamento senza però penalizzare la cittadinanza usare la bicicletta per combattere il traffico possibilmente senza farsela rubare una delle possibilità era la velostazione presso la stazione fs di bergamo gli ingressi in state veramente pochi forse la tecnologia uno dei problemi la velostazione il parcheggio automatico e sicuro per le biciclette sistemato in piazzale marconi non sta ottenendo il successo sperato inaugurato a marzo 2022 fino ad oggi è raccolto 260 iscrizioni i bergamaschi che lasciano la propria bicicletta all'interno del parcheggio sono circa 20 25 al giorno per un totale di 15 abbonati che scelgono di lasciare il proprio mezzo qui regolarmente la struttura era stata pensata come una grande occasione per tutti i pendolari che raggiungono la stazione sui pedali per poi raggiungere le rispettive destinazioni in treno il sistema appariva all'avanguardia sicuro gradevole anche da un punto di vista estetico e punto luce importante ai fini della sicurezza notturna che da queste parti è tutt'altro che garantita tuttavia proprio la tecnologia ha fatto flop per superare il tornello d'ingresso e parcheggiare la propria bicicletta bisogna scannerizzare un qr code ma proprio questo sistema non ha funzionato come si sperava nel corso dell'estate a causa dell'esposizione al sole e alle elevatissime temperature non proprio benissimo insomma con il comune che ora ha incaricato la società che gestisce questo sistema per porre rimedio al problema la speranza è che una volta che la tecnologia verrà ripristinata possa anche partire una campagna di comunicazione e valorizzazione all'altezza pedalopolis la società che gestisce la struttura lo spera fortemente tuttavia in molti hanno rilevato che nel progetto della nuova stazione la velo stazione non viene menzionata e a dire il vero mancano anche alternative ascoltando comune ed rfi vero è che la struttura è leggera ed è stata pensata proprio per essere trasferita anche in blocco altrove ma la scelta per principio stona e non poco parliamo sempre di ruote ma leggermente più piccole da febbraio 2023 cambia la flotta dei monopattini in noleggio in città il comune ha indetto un bando per la nuova gestione imponendo nuove regole su tutte quelle relative alla sosta per evitare l'abbandono di monopattini in ogni angolo della città il comune applicherà un aumento della tariffa a chi parcheggerà il mezzo fuori dall'area prestabilità per incentivare il parcheggio corretto verranno aumentate le postazioni virtuali e diminuiti i mezzi a disposizione dei bergamaschi in chiave sicurezza bauletti e caschi in dotazione rappresenteranno punti a favore che il comune terrà in considerazione per assegnare la gestione del servizio ora parliamo dei cimiteri per i nostri animali la regione lombardia ha dato l'ok via libera bergamo era già però un passo avanti da oggi anche fluffi e fido potranno trovare degna sepoltura regione lombardia su proposta della consigliera claudia carceri ha infatti approvato una legge che consentirà la creazione di cimiteri per gli animali da compagnia che sono diventati una parte sempre più integrante della vita delle persone basti pensare che ben 20 milioni di italiani corrispondente al 39 per cento del paese possiede un cane o un gatto in famiglia all'interno di questi cimiteri si potranno sia riporre le urne cimerarie sia inumare le carcasse posando anche le targhe funerarie sarà prevista inoltre la realizzazione di forni crematori previa autorizzazione del comune giacomo agostini campione in discorso del motociclismo bergamasco insignito della rosa camuna della lombardia 15 titoli mondiali in bacheca 123 gare vinte su 190 disputate 1577 punti ottenuti in carriera lui è giacomo agostini il leggendario motociclista cresciuto a bergamo che nella sua sala trofei già zeppa di coppe aggiunge da oggi anche la rosa camuna il massimo riconoscimento che regione lombardia conferisce a uomini che si sono contraddistinti per meriti professionali e spiccate doti umane sull'aspetto sportivo parlano da sei numeri appena snocciolati record su record ancora oggi difficilmente avvicinabili i tifosi lo amavano e ancora oggi lo amano però anche per uno stile sobrio giù dalla moto medaglia che agostini si tiene stretta è un riconoscimento per quello che hai fatto nella vita da sportivo e come uomo quindi quindi questo mi dà molto orgoglio meticoloso nella vita micidiale in pista tra sorpassi e una classe che era un dono di natura in eredità ha lasciato a tutti i motociclisti venuti dopo di lui la professionalità ho condotto una vita una vita regolata è una vita diciamo che prima di tutto arrivava il mio mestiere cioè il mio sport e quindi io mi preparavo in tutto per questo ero molto preciso molto meticoloso molto rompiscatole però insomma se non fai questo i successi le vittorie non arrivano qui la cerimonia di consegna si è svolta questa mattina a palazzo pirelli alla presenza tra gli altri del presidente di regione lombardia tiglio fontana e del delegato allo sport antonio rossi ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti ci ritroveremo con i 50 anni dell'orto botanico bentornati con le notizie di seila tv news parliamo di orto botanico è una vera perla della città la città alta che festeggia 50 anni con tante iniziative 50 anni sono un traguardo di rilievo un compleanno importante l'orto botanico di bergamo li festeggia regalando alla città una serie di eventi e laboratori che animeranno sia la sezione di città alta che quella di astino e un ciclo di otto conferenze per ripercorrere la storia dell'istituzione civica ma anche per parlare di ambiente clima e futuro giovedì 20 ottobre appuntamento alla sala curò in piazza cittadella protagoniste le mura di bergamo e la loro flora unica e speciale per il rapporto simbiotico con la cinta muraria patrimonio dell'unesco a novembre ci saranno altre due conferenze la prima un viaggio attraverso alcune storie e che raccontano un po le vicende delle persone che queste collezioni le hanno studiate le hanno raccolte le hanno catalogate e che ancora tutt'oggi le conservano le coltivano l'altro appuntamento di novembre sarà dedicato al rapporto tra piante e animali a dicembre invece si parlerà di un progetto internazionale gloria che appunto a 150 siti di indagine in tutto il mondo 4 nella bergamasca la cima di menna a rera il cimetto e il campioncino in val di scalbe indagano i cambiamenti climatici studiando la flora di alta quota l'ultimo incontro invece dedicato a una teoria che va a indagare la creazione di questi fiumi in alta quota che modificano e in qualche modo orientano i cambiamenti climatici le conferenze sono gratuite aperte a tutti e c'è la possibilità di rivederle sul canale youtube dell'orto botanico andiamo al papa giovanni di bergamo l'associazione atena ha organizzato una interessantissima mostra fotografica contro l'alcol mettere in mostra il disagio per combatterlo con questo intento l'associazione atena con il patrocinio di comune provincia allestito al papa giovanni ventitresimo la mostra fotografica oltre l'alcol in uno scatto che rimarrà all'ingresso di torre 7 fino al 30 ottobre la mostra è in corso nella bergamasca da un paio di anni ed è il culmine di un percorso di sensibilizzazione effettuato con i ragazzi delle scuole medie superiori della provincia sul tema della dipendenza da alcol l'ospedale di bergamo è sicuramente uno dei luoghi più indicati per questo tipo di campagna essendo il luogo della cura ma anche della prevenzione le immagini sono di forte impatto e corredate da alcune parole chiave che descrivono quanto l'alcol influisca sulla vita dei giovani sia da un punto di vista fisico che soprattutto emotivo e sociale il fenomeno delle dipendenze è purtroppo dilagante con l'età media dei ragazzini che cadono in questo vortice in costante abbassamento due ore alle news sull'atalanta approfittando della pausa per i mondiali in catar il 25esimo trofeo achille e cesare bortolotti si disputerà al ghevi stadium di bergamo venerdì 9 dicembre alle ore 20 avversari dell'atalanta saranno i tedeschi dell'eintracht francoforte che hanno vinto l'ultima edizione dell'europa league l'atalanta non troverà il breccia in coppa italia quindi troverà lo spezia nei ottavi appunto questo pomeriggio infatti la squadra di gotti ha sconfitto per 3 a 1 le rondinelle del breccia niente derby dunque e sfida da serie a per gli uomini di gasperini ora vediamoci insieme il tempo delle prossime ore trebi meteo un saluto e ben ritrovati da sofia inglese di trebi meteo un centro di bassa pressione coinvolgerà nella serata di giovedì il nord ovest preludio di un peggioramento per le regioni settentrionali nella giornata di venerdì alta pressione invece ancora ben salda al centro sud con temperature in ulteriore aumento valori massimi anche oltre i 25 gradi ma nel dettaglio la lombardia giornata di giovedì con sole prevalente segnaliamo solo la possibile formazione di banchi di nebbia al mattino sulla valpadana specie in prossimità del po temperature che non subiranno particolari variazioni clima molto mite valori massimi intorno ai 23 24 gradi ma nel dettaglio la provincia di bergamo cieli in prevalenza sereni o parzialmente nuvolosi con temperature stazionari e valori massimi intorno ai 22 23 gradi un peggioramento invece atteso nel corso della giornata di venerdì con rovesci più diffusi sui rilievi più deboli invece in pianura temperature che saranno in netto calo con valori massimi intorno ai 18 gradi uno sguardo alla tendenza dei prossimi giorni residua instabilità nel corso della mattinata di sabato tempo che andrà a migliorare nei giorni successivi ma restate aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di trebi meteo nessun'altra nuova notizia le vostre segnalazioni a redazione chiocciola sei la tv punto tv una buona serata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.